Ci sono aziende piccole che riescono a trovarsi una nicchia e a fare ricerca nel loro settore. Dall'altra parte abbiamo giovani che nel momento in cui gli viene offerta una possibilità interessante di un percorso formativo di lavoro si giocano fino in fondo. Io lo dico perché in questi anni l'esperienza che abbiamo fatto è di portare giovani a fare esperienze lavorative e hanno capito che era per il loro futuro e l'hanno utilizzata fino in fondo.